I carabinieri della compagnia di Livorno hanno tratto in arresto un giovane 23enne gravamente indiziato di aver ucciso il padre stanotte accoltellandolo nel sonno. Il giovane successivamente avrebbe tentato il suicidio, tagliandosi le vene del polso e per fortuna ha avvertito un amico che prontamente ha allertato il 112 e grazie alle sue indicazioni è stato possibile ritrovare il giovane prima che compisse iniziare i gesti.